Premetto che questo è un video che piacerà molto a insegnanti, giornalisti, chi ha a che fare con dei documenti che non scrive lui ma che deve revisionare. Come facciamo a sapere se quel contenuto che ci è arrivato in Word è stato in qualche modo generato prendendo pezzi dalla rete? Quindi abbiamo la possibilità di verificare se i testi che sono presenti all'interno del documento hanno una corrispondenza online, sono stati presi online? Assolutamente sì, vi è una nuova funzionalità all'interno di Word, in realtà nuova si fa per dire perché è stata lanciata nel 2020 quindi è in giro da un bel po' però adesso è disponibile praticamente per tutti in Office 365, facilita l'inserimento addirittura di citazioni come vedremo. Quindi partiamo dall'inizio, noi possiamo aprire un determinato documento, c'è una sezione che si chiama Editor all'interno della scheda Home, qui abbiamo una voce che si chiama similarità per verificare appunto la corrispondenza tra il nostro contenuto, il testo e delle fonti online. Quindi una volta che è stata fatta questa analisi appunto di similarità, l'editor mostra la percentuale di contenuto che corrisponde appunto a dei testi che lui ha trovato navigando in rete. Quindi ci permette di fare due cose, uno fare una verifica perché poi tutti questi contenuti che lui ha verificato vengono appunto colorati all'interno del testo ma poi possiamo addirittura fare qualcosa di più evoluto, cioè trasformare appunto quel passaggio in una vera e propria citazione, integrando tra l'altro poi addirittura una bibliografia in caso di una tesina, di una tesi e via dicendo. Quindi ricapitolando, lui capisce che un testo è stato preso da un determinato sito e ti dice qual è il sito e poi ti dice guarda se vuoi tienilo però cita che è stato preso da quel sito e io ti dico esattamente il link e via dicendo. Io ho provato su un mio contenuto che era stato pubblicato anche online e ha beccato esattamente il riferimento al mio sito e mi ha permesso appunto di fare una reference, una citazione. Credo che sia uno strumento molto interessante che forse molti non conoscevano. Quindi buon word e buoni contenuti a prova di plagio a tutti. Ciao da Gianluigi.